Presentata questa mattina a Palazzo San Giacomo, la tappa italiana del circuito europeo Cadetti di Fioretto Maschile e Femminile, competizione internazionale di scherma che si terrà al Palavesuvio di Ponticelli dal 28 al 29 gennaio. A le gare prenderanno parte quasi 400 schermidori di diverse nazionalità e di età non superiore a 17 anni. Solo in Europa organizziamo questo tipo di evento riservato agli under 17 e vengono però da tutto il mondo, abbiamo 31 paesi che partecipano a questa manifestazione. L'evento non era preventivato, la sede originale è rinunciato e noi ne abbiamo subito approfittato e ci auguriamo di mantenerla come evento stabile per tutti gli anni a venire. Siamo fieri di avere qui la tappa italiana del campionato europeo di cadetti di scherma e per questa occasione anche questo è il primo passo verso la nostra candidatura a Napoli Capitale Europea dello Sport 2026 ed infatti per questa occasione abbiamo aperto le porte del nostro Palavesuvio per cui l'accesso sarà gratuito per assistere a questo spettacolo perché l'intento è quello di far conoscere tutti gli sport ai nostri ragazzi napoletani e quindi per far appassionare tutti a tutti i tipi di sport in modo tale da poter arrivare poi al 2026 davvero a giocarci questa candidatura.